Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi è il video dei prodotti terminati durante questo mese di settembre. Nonostante il mese di settembre non è ancora terminato, io in realtà ho smaltito un bel po' di prodotti e come potete vedere la mia cesta di prodotti finiti è ormai piena. Quindi ho deciso appunto di girare questo video insieme a voi oggi. Ho tantissimi prodotti di skin care terminati, ma anche molti prodotti per il corpo e per i capelli che voglio appunto recensirvi oggi insieme a voi. Se sentite una voce leggermente diversa, un po' più nasale, sono leggermente raffreddata, nient'altro. Direi appunto subito di iniziare. Allora, per quanto riguarda i capelli, ho terminato questo shampoo dell'inecto, shampoo naturale, realizzato con il 90% di prodotti di origine naturale a base di cocco. È uno shampoo che mi è piaciuto parecchio, shampoo cruelty free e vegano, molto molto buono, ha una profumazione al cocco molto delicata, non stucchevole, non fastidiosa. L'unica pecca è che dopo un paio di giorni porta leggermente prurito sulla cute e diciamo è l'unica pecca di questo shampoo che purtroppo non mi porta a riacquistarlo. Rapporto qualità-prezzo ottimo, ha un prezzo che si aggira intorno al pound e 50, quindi siamo intorno a 1,80 euro. Se trovate questo brand di inecto, vi consiglio tantissimo di provare la crema mani e la crema per il corpo, perché è veramente veramente buona. Un altro shampoo poi che ho terminato, che avevo iniziato già da un po' di tempo, è questo shampoo di Fitzrovia Center. Ed è uno shampoo che ha lo scopo di rendere i capelli più doppi, quindi rafforzare particolarmente i capelli e soprattutto aiutare la crescita. C'è da dire che una cosa che sicuramente ho notato di questo prodotto è che rende i capelli più morbidi e soprattutto aiuta tantissimo la crescita dei capelli. Io ho notato che nonostante abbia tagliato i capelli soltanto due mesi fa, sono cresciuti tantissimo. Adesso non so se è dovuto a questo shampoo, ma è una particolarità che ho notato appunto nell'ultimo periodo. È uno shampoo che comunque ha un costo abbastanza elevato, ma nonostante ciò mi è piaciuto particolarmente. Ovviamente non l'ho utilizzato ogni qual volta facevo lo shampoo, bensì lo alternavo allo shampoo di inecto. Quindi di solito facevo a settimana uno shampoo con il Fitzrovia e uno shampoo con l'inecto. Poi l'ultimo prodotto che ho terminato per i capelli è questo balsamo di Dove, che è un balsamo che ha lo scopo prettamente di nutrire i capelli a base di olio di lavanda e estratti di rosmarino. Questo balsamo, se vi capita di trovarlo, vi consiglio veramente di comprarlo. È uno shampoo che viene consigliato veramente a tutti i tipi di capelli e ha lo scopo prettamente di nutrire il capello ed è una cosa che fa letteralmente in profondità. Quindi non è consigliato né per capelli grassi né per capelli secchi, bensì per qualsiasi tipologia di capello, in quanto ha lo scopo letteralmente di nutrirli. Poi ho terminato questo detergente intimo che ormai vedete ogni mese. Di solito utilizzo questa profumazione o quello agli estratti di camomilla, in realtà preferisco l'altro. Poi per le mani ho terminato questo detergente antibatterico che uccide il 99,9% di batteri della cura acquistato da Aldi, che poi in realtà è simile a Lidl. Per quanto riguarda questo detergente non mi è dispiaciuto per niente, sinceramente preferisco quello di Carex, ma se vi capita di trovarlo comunque il rapporto qualità-prezzo è piuttosto valido. Sempre per le mani poi ho terminato questo sanitizer, quindi questo hand gel alle aloe vere di Carex. L'ho acquistato a metà prezzo, lo trovai in sconto intorno ai 3 pound, infatti ne ho fatto la scorta, ne ho altri due prodotti. È un prodotto veramente ottimo, contiene più del 70% di alcol e questa è una percentuale importantissima, perché i sanitizer, quindi i gel per le mani, devono possedere almeno un 70% di alcol all'interno per uccidere i batteri. Se hanno una percentuale più bassa non uccidono i batteri, ecco, questa è una cosa importante. Mi è piaciuta particolarmente, non va letteralmente a seccare troppo le mani, a differenza di altri prodotti che ho utilizzato. E inoltre ha questa profumazione all'aloe vera, è molto molto delicata, ottimo prodotto. Poi, come diodorante, l'unico diodorante che ho terminato è questo della DAV al cetriolo. Ha sicuramente una fragranza rinfrescante, ma sono sincera, preferisco quello col tappo blu, quindi quello tradizionale, quello naturale. Prodotto comunque promosso, ma tra le profumazioni preferisco l'altra, sono sincera. Poi ho terminato due dentifrici della Colgate, uno il Deep Clean Whitening e l'altro il Max White. Sono sincera, questi prodotti non li utilizzo da sola, li utilizzo insieme anche al mio ragazzo. Tra i due ho preferito questo Max White, in quanto va letteralmente a mantenere molto molto più bianchi lo smalto dei denti. E tra l'altro ha una profumazione alla menta che mi piace particolarmente. Poi ho terminato queste salviettine che possiedo di Primark, che di solito possiedo sulla mia stazione di make-up. Questi li ho acquistati da Primark, due scatoli di 25 salviettine costano un pound. E questi sono alla profumazione di tè verde e camomilla. Hanno una profumazione molto molto delicata, io li utilizzo soprattutto per struccare le mani quando faccio degli swatch, eccetera. E mi piacciono particolarmente, soprattutto poi per il rapporto qualità-prezzo va piuttosto bene. In assoluto un altro prodotto che ho terminato e che vado sempre ad acquistare, che sono in assoluto le mie salviettine preferite, sono queste della Johnson. In questa fragranza, consigliate per le persone che hanno una pelle sensibile, zero parabeni, zero alcol e zero fragranza. Ci sono 56 salviettine all'interno, hanno un costo che si aggira intorno agli 80 centesimi e sono veramente veramente buone. Molto molto delicate, le utilizzo appunto per struccare, diciamo, quelli che sono i swatch, se ci sono dei fallout, quindi molto molto delicate, non le utilizzo appunto per struccarli. Poi ho terminato questi dischetti della Soft Pure, in assoluto sono quelli che mi piacciono di più, molto molto delicati, in cotone, 100% cotone puro e sono piccoli. Li utilizzo sia per struccare gli occhi con l'acqua micellare, prima di andare poi a struccare il viso con un burro struccante, ma li utilizzo anche per, diciamo, rimuovere lo smalto con l'acetone, mi piacciono particolarmente. Poi, passiamo adesso ai prodotti per il corpo. Allora, per quanto riguarda i prodotti per il corpo, ho terminato questo Dove Shower Mousse, questo ho realizzato con oli di rosa, mi è piaciuto particolarmente, se ricordate uno degli ultimi haul di questa linea di Dove, ne ho acquistati altri tre, quello al cotone, quello alla macadamia e quello, se non erro, agli estratti di avocado. Al momento sto utilizzando quello alla macadamia, questo mi è piaciuto particolarmente, trovo che queste mousse della Dove siano veramente efficaci, vanno ad ammorbidire tantissimo la pelle, allo stesso modo vanno, diciamo, letteralmente ad ammorbidire la pelle delle gambe, soprattutto se volete poi utilizzare un rasoio, quindi rimuovere poi quelli che sono i peli, e appunto non l'ho utilizzata ogni qualvolta facevo la doccia, ma soprattutto in occasione appunto della depilazione. Hanno tra l'altro poi una profumazione molto molto delicata che rimane appunto sulla pelle. Poi, sempre per il corpo, ho terminato in assoluto il mio scrub preferito per il corpo di Ritual, realizzato appunto a estratti di riso e fiori di ciliegio. Questo mi è uscito, diciamo, all'interno di un regalo che mi fu fatto dal mio ragazzo lo scorso Natale, e sono veramente contentissima perché nell'acquisto del calendario dell'avvento che ho preordinato, di Look Fantastic, c'è di nuovo uno di questi prodotti in full size. Sono contentissima, veramente questi scrub hanno una profumazione pazzesca, delicatissima, in più contengono un olio all'interno che oltre a scrubbare la pelle e quindi a rimuovere tutte, diciamo, le cellule morte e la pelle morta dal vostro corpo, lasciano veramente una pelle super super morbida e super super nutrita. Veramente ottimo prodotto. Un altro prodotto per il corpo che poi vi è piaciuto tantissimo è questa crema di Ahava. Questa mi uscì all'interno di una beauty box di Look Fantastic nei mesi scorsi e mi è piaciuta particolarmente. Più che crema sembra quasi un latte corpo che appunto a contatto con la pelle va letteralmente ad ammorbidire la pelle e a nutrirla in particolar modo. Ha una profumazione di minerali del mar molto 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 piacevole e ho intenzione di acquistarla in full size. Veramente un prodotto ottimo. Un'altra crema corpo poi che ho terminato e che ho intenzione di riacquistare, mi è piaciuta tantissimo, è di questa linea di Bio Glow. Questi sono dei prodotti naturali, biologici e questa è realizzata all'aloe vera, vitamina E e vitamina B5. Hanno lo scopo di nutrire e idratare la pelle e veramente mi sono trovata benissimo. Profumazione pazzesca, molto molto delicata, mi ricorda un po' la Nivea ecco. come consistenza molto molto idratante, non fa alcuna scia sulla pelle e viene assorbita in pochi secondi. Mi piace veramente tantissimo questo prodotto di Bio Glow e ho veramente intenzione di riacquistarlo, magari anche se lo trovo in altre fragranze. Poi un prodotto che ho dovuto cestinare è questa crema per i piedi di The Body Shop. Non è un prodotto che assolutamente boccio, anzi al contrario, questo se utilizzato insieme ai sali, proprio per il pediluvio, è un prodotto veramente ottimo, che va letteralmente a nutrire e idratare i piedi, soprattutto se soffrite come me di talloni secchi. Purtroppo vado a declatterarlo perché questo ha un paio di 12 mesi e purtroppo lo possiedo da più di 3 anni e avendo notato comunque un cambiamento nella profumazione ho deciso appunto di declatterarlo. Poi per il corpo, come bagnoschiuma, ho terminato due mini size. Allora, uno di Dove, questa Deeply Nourishing Moisture Shower Cream ed è una vera e propria crema doccia. Mi è piaciuta particolarmente ma non ho intenzione di acquistarlo in quanto di Dove preferisco altri prodotti. Poi un altro prodotto che ho terminato sempre in mini size è questo bagnoschiuma di Molton Brow al cipresso e finocchio marino. Questo, a differenza dell'altro prodotto che ho terminato in passato, che aveva una profumazione al peperosa, mi è piaciuto tantissimo, anche se ha una profumazione più maschile. Mi è piaciuta particolarmente perché comunque è una profumazione fresca. Ovviamente non è un prodotto che andrò a riacquistare, ma sicuramente non è un prodotto che boccio, in quanto è ottimo, basta pochissimo prodotto per detergere la pelle e soprattutto va letteralmente a detergere la pelle in profondità. Passando infine per quanto riguarda i prodotti del viso che ho terminato, qui ho un bel po' di prodotti da farvi vedere. Allora, di Avant ho terminato due prodotti, una crema giorno e una crema notte. Allora, ho terminato questo trattamento notte al burro di scia, mandorla dolce e moringa e ho terminato anche questa crema giorno all'acido ialuronico e anch'esso alla mandorla dolce. Sono due prodotti veramente ottimi, come potete vedere li ho tagliati per terminarli a fondo. Mi sono piaciuti particolarmente, vanno letteralmente a nutrire e idratare la pelle, in particolar modo quella all'acido ialuronico trattiene tantissimo l'idratazione della pelle, quindi non va assolutamente a seccare il viso. Ottimi prodotti, entrambi usciti all'interno di alcune beauty box di look fantastica, hanno un prezzo sicuramente elevato, ma sono dei prodotti veramente, veramente validi. Terminati poi i due prodotti di Caudalie, acquistati in passato in un set. Sto parlando del siro viso del vino pure, anti imperfezioni, e la crema viso mattificante, sempre della stessa linea di vino pure. Allora, per quanto riguarda il siro mi è piaciuto tantissimo, è un siro sicuramente anti imperfezione, e mi è piaciuto sicuramente parecchio, soprattutto nell'area delle palpebre. Ovviamente non va a utilizzare nelle zone troppo secche del viso, come ad esempio l'area del contorno occhi. Mentre per quanto riguarda la crema, non mi è piaciuta particolarmente, in quanto credo sia consigliata più per una pelle tendenzialmente grassa. Io, avendo una pelle tendenzialmente secca, essendo un prodotto mattificante, andava letteralmente a seccarne un po' la pelle. Quindi non è un prodotto che riacquisterei. Sempre per il viso poi ho terminato questo contorno occhi di Madara, il Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream. È un contorno occhi senza infamie e senza lode. Non è male, andava leggermente a rendere il contorno occhi più luminoso, più radiante e soprattutto non andava a seccarlo, che è una caratteristica che io vado ricercando all'interno dei contorni occhi. Ovviamente è un prodotto che va utilizzato con costanza mattina e sera. Sicuramente non è un prodotto che boccio, ma non è un prodotto che riacquisterei. Ho intenzione di provare altri prodotti per il contorno occhi. Poi ho terminato due attivatori di giovinezza, uno di Lancome e l'altro di Biodermi in mini size, regalatemi da mia sorella. Sono due prodotti ottimi. Ho intenzione di acquistare uno dei due almeno in full size. Mi sono trovata veramente bene. Lì andavo ad utilizzare la sera, subito dopo la detersione, subito dopo aver applicato il tonico. e ho trovato che al mattino mi andavo a risvegliare con una pelle sicuramente molto più radiosa, più giovane. Non che io abbia una pelle vecchia, in quanto comunque ho 27 anni, ma rendevano la pelle molto più luminosa, più radiosa. Veramente una pelle bellissima. E sono due prodotti che io consiglio particolarmente magari a chi ha un'età già un po' più avanzata, che si avvicina intorno ai 30-35 anni e comunque sono presenti i primi segni di rughe, eccetera, eccetera, dell'età. Poi ho terminato un booster che mi è piaciuto particolarmente, di Elizabeth Harden. Purtroppo questo prodotto era in mini size, quindi l'ho terminato veramente in pochissimo tempo, ma mi è piaciuto particolarmente. Questi prodotti di Elizabeth Harden mi piacciono in particolar modo. ho intenzione veramente di provare altri prodotti di questa linea. Poi ho terminato un siroviso in mini size della This Work, ed è un siroviso all'acido ialuronico. Al contrario degli altri prodotti per il viso, questo non mi è piaciuto assolutamente. Sicuramente era percepibile la presenza di acido ialuronico, in quanto tratteneva appunto l'idratazione della pelle, ma è un prodotto che lasciava la pelle letteralmente appiccicosa. Nonostante io andassi poi ad applicare una crema idratante o una crema nutriente al viso, questa percezione di appiccicaticcio rimaneva comunque sulla pelle, quindi non è un prodotto che andrei a riacquistare. Passando poi alle maschere, qui abbiamo parecchi prodotti bocciati. Allora, tra i primi prodotti bocciati ci sono queste due maschere di Primark, una idratante e una purificante, che ho acquistato al costo di 80 centissimi, 80 piluno. Non mi sono piaciute assolutamente, per me queste non sono né maschere purificanti né maschere idratanti, andavano letteralmente a seccare la pelle. E inoltre la presenza di argilla all'interno di una crema idratante per me la trovo, diciamo, una cosa un po' controproducente, perché l'argilla di per sé va leggermente a seccare la pelle, quindi non trovo come una maschera idratante possa essere realizzata a base argillosa. Quindi sono due maschere che non andrei a riacquistare, non mi sono per niente piaciute. Poi un'altra maschera che non mi è piaciuta assolutamente è questa maschera di Face Fact ed è questa maschera realizzata appunto con lo scopo di nutrire la pelle con miele all'interno. Allora, io la percezione di miele non l'ho sentita, non ho sentito, diciamo, alcuna percezione sulla pelle. Era una maschera che veniva applicata per 20 minuti sulla pelle poi rimossa, eliminavate gli eccessi e tamponavate gli eccessi. non ha fatto letteralmente nulla in la mia pelle, così come era è rimasta. Non che io voglia dei miracoli, ma veramente non ne è valsa la pena. Al contrario, una maschera che mi è piaciuta particolarmente, che non è la prima volta che utilizzo, è questa maschera Alfico di Skin Treat. Maschera antiossidante e revitalizzante, ottima, made in Corea. Veramente, veramente un prodotto ottimo. Se trovate questo brand Skin Treat, fa delle maschere viso pazzesche, veramente, veramente buone. Poi, due maschere che mi sono piaciute particolarmente, una consigliata per la pelle secca, una per le pelli normali. Sono queste creme che sono realizzate con olio, di mandorla naturale e miele. Hanno lo scopo, letteralmente, di nutrire la pelle. Sono delle maschere che vengono lasciate 5-10 minuti sulla pelle, hanno un costo molto basso, nutrono tantissimo la pelle e soprattutto lasciano una sensazione di radiosità, di freschezza sulla pelle, che io vado personalmente alla ricerca. Un'altra maschera che mi è piaciuta molto è questa all'arancia di Origin. Questa maschera andava letteralmente a illuminare la pelle. Nonostante io abbia fatto soltanto un'applicazione di questa maschera, ho notato subito dopo l'applicazione comunque una pelle molto più luminosa, più nutrita, più radiosa. Veramente una maschera valida. Infine, gli ultimi due prodotti che ho terminato. Allora, questa maschera di Superdrug che ha lo scopo di purificare, realizzata con minerali del marmolto e cetriolo. Allora, non è una maschera che mi ha colpito particolarmente in più, è una maschera, non so per quale motivo, ma andava letteralmente a pizzicarmi nell'area del contorno del mio naso e sul mento. Non so per quale motivo. Ha una profumazione molto delicata. Andava comunque a purificare molto bene la pelle, ma per questo motivo non ho intenzione di riacquistarla. Infine, ho terminato una maschera che avevo già da un po' di tempo ed è questa maschera di Yves Rochelle Hydra Vegetal. Maschera idratante. È una maschera che ho fatto due volte a settimana. Veniva lasciata tra i 5 e i 10 minuti sulla pelle e andavo ad applicare uno strato sottile sulla pelle di questa maschera e poi, ovviamente, rimossi gli eccessi. Sicuramente è una maschera che andava ad idratare la pelle. L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è la profumazione. Questi sono tutti i prodotti che ho terminato durante questo mese di settembre. Come avete visto, sono veramente tantissimi i prodotti. Spero che il video di oggi vi abbia tenuto un po' di compagnia, vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Un basso, ciao!